Città di passeggeri, tra qualche minuto atterremo a Monaco di Baviera. Ci aspettiamo di allevare al gate G44, vi invitiamo a mantenere le citture di sicurezza allacciate, chiudere il tavolino, porre lo schienale in posizione verticale e aprire gli oscuranti. Per l'atteraggio vi chiediamo di sistemare computer apparati elettronici voluminosi nel vostro bagagamano. Quest'ultimo deve essere riposto sotto la poltrona davanti, quindi in caso di evacuazione deve essere lasciato a bordo. Per ulteriori informazioni potete consultare il nord di sicurezza, poste in attacca del sedile di fronte, grazie. I ben gesto in Kürzwelle, in Pünce, lande. Unsere voraussichtliche Anrufposition ist das GG44. Bitten Sie, die Sitzkote geschlossen zu halten, die Schupe zu klappen, die Rücke in Ihren sitze, senkerati, anzustellen und die Sonne brennen zu öffnen. Sie geben Sie l'attoppsumbrusselektronische Geräte für die Landung in Ihren Hangepäck. Dieses muss posizione vor der Sitz verstaut, in falle einer Evakuierung an Bord gelassen werden. But informationen vinten Sie in der Sicherheitskarte, die sich in der Sitztasche vor Ihnen befinden, vielen Dank. Sitzkote geschlossen. Sitzkote geschlossen. Sitzkote geschlossen. Sitzkote geschlossen. grazie 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 all'interno del terminal che questo non sia cambiato un bagaglio verrà trasferito direttamente sul prossimo volo tramite l'app Lufthansa sarà possibile ricevere aggiornamenti in metto al vostro volo Lufthansa scusandoci per il ritardo e gli eventuali disagi vi ringraziamo per aver volato con il Dolo Vitti e Lufthansa e vi auguriamo un piacevole soggiorno e un buon proseguimento del vostro viaggio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti